L'Orto Botanico fa parte del Sistema Museale di Ateneo, la missione più importante dell'Orto Botanico e del Sistema Museale di Ateneo, che comprende tanti altri musei, è la divulgazione, la terza missione, il Public Engagement, per far questo spesso ci appoggiamo ad artisti, all'arte, per comunicare meglio con il pubblico le bellezze del nostro Sistema Museale. La mostra che ospitiamo oggi all'Orto Botanico dell'Università di Palermo, opera di Francesco Di Luca, testimonia quell'intimo rapporto che c'è tra uomo e natura. Si tratta di cinque sculture che caratterizzano e descrivono questo rapporto in maniera straordinaria. L'Orto Botanico è sicuramente una perla del Sistema Museale di Ateneo ed è lo scenario più indicato per alcune espressioni artistiche. Quella che celebriamo con Francesco Di Luca è una condizione quasi naturale. Lui ci racconta la sua natura, la rinascita della sua natura, questo processo ciclico di rinnovamento che l'Orto, che si rinnova continuamente, ospita con grande entusiasmo. Peraltro queste testimonianze collocate in diversi luoghi sottoscrivono e cementano e avvolgono in un abbraccio arte-natura un percorso artistico che noi troviamo molto vicino alle intenzioni e alla missione che l'Orto Botanico di Palermo ha e tutto il Sistema Museale di Ateneo. Di Francesco Di Luca è stato principalmente site specific, ha pensato appositamente le opere per questi luoghi e ricordiamo che entrambe le mostre sono aperte dal primo maggio e proseguiranno fino al 30 settembre. Rarica mostra site specific di Francesco Di Luca è un termine che è ricavato dal dialetto siciliano e significa proprio radice. Rarica infatti parla di radici, parla di innesti e parla di vita non direttamente in contrapposizione con il concetto di morte ma due concetti che per l'artista si compenetrano. Tutto nasce da questa radice ideale che si fonde con una radice di una pianta e il significato di ramificazione di un corallo. È il ciclo della vita, della vita e della morte, del del dramma e della risurrezione.